E' uno dei luoghi più iconici del centro storico pesarese. A due passi da Piazza del Popolo, alle spalle di Via Branca, il chiostro dell'ex convento San Domenico, che da sempre ospita il mercato delle erbe, è ora pronto a passare di mano. E' infatti imminente la cessione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio al Comune di Pesaro per 800 mila euro. Questa transizione è un accordo che aveva intervenuto a suo tempo con il Comune, ormai più di un anno fa, in cui è stato patuito condizioni e prezzo per la vendita al Comune della parte del San Domenico di proprietà della Fondazione. Fondazione che aveva acquisito sempre dal Comune questa parte del San Domenico per un progetto che riguardava a suo tempo anche la possibilità di localizzare il servizio universitario della città in quei locali. Venuta meno questa possibilità per una serie di concomitanti avvenimenti, siamo accordati con il Comune per l'accessione della nostra parte. In questo momento, convenute tutte le condizioni per il passaggio di proprietà, abbiamo chiesto l'autorizzazione alla sovraintendenza per le belle arti regionale in quanto l'immobile vincolato, ha autorizzazione a cedere di nuovo l'immobile al Comune. Siamo in attesa dell'autorizzazione per arrivare al perfezionamento dell'atto di vendita.